La Fiorentina, ragazzi, ragazzi, io non me l'aspettavo, io pensavo che ci fosse un sussulto come gruppo, come squadra, ma questa Fiorentina, cioè prendi sei pappine a Napoli, sei pappine a Napoli dopo aver vinto 3-0 a Torino con la Juve, dopo aver bloccato l'Inter, io non la capisco, io non capisco davvero, certe cose del campionato non le capisco, ma la Fiorentina non la capisco da inizio campionato, la Fiorentina non scenderà in CDB, Ma si era tirata fuori, si era tirata fuori, così ci ritorni, così ci ritorni, perché, oh ma ragazzi, ma avete idea di quanti giocatori ha la Fiorentina, quanti stipendi paga, Ribery, Castrovilli, Caleon, Vlaovic, Malenkovic, ma tanti, Bonaventura, Caceres, tutti giocatori di un certo nome, che tutti insieme non fanno niente, non fanno una squadra, D'altro canto c'è un Napoli che è anche quello, è un po' un Napoli strano ragazzi, è un po' un Napoli strano, un Napoli che ti gioca bene, dopo ti perde due partite di seguito, dopo ti rigioca bene, secondo me al Napoli, ma lo dico già da un po' di tempo, manca proprio una bolla davanti, che dovrebbe essere Osimè, Petagna sta facendo il suo, sta facendo il suo, probabilmente, Gattuso deve trovare una quadra, non sarà facile, non sarà facile perché sta squadra è pazzarilla, sai, la squadra del Napoli è davvero una squadra abbastanza pazza, Non è una, è strana, è davvero strana come squadra, ma il punto è, lo 0 a 6, non il 6 a 0, è lo 0 a 6, io l'ho vista la partita, cioè ragazzi ogni tiro era un gol, e non è che il portiere avesse chissà quali problemi, chissà quali sbagli del portiere, Certo, due o tre tiri da lontano se l'è proprio messi dentro, però tutto sommato, erano golle lineari, golle che ci stanno, cioè ha perso, si è schiantata la Fiorentina di squadra, si è schiantata di squadra, cioè non aveva nessun collegamento fra i reparti, cioè la difesa era troppo sola, ma anche quando era solo faceva degli sbagli suoi, io non lo so adesso cosa succederà a Firenze, se Prandelli resta o non resta, perché quella scossa non c'è stata, Anche lì, prendere tutte queste minestre riscaldate, non lo so se funziona, sta funzionando adesso al Genova, ma di solito non funziona, prendere un allenatore che è già stato, prendi qualcuno nuovo, la Fiorentina sta sbagliando gli allenatori, ha preso Iachini, che campionato vuoi fare con Iachini? Con Iachini fa un campionato da quindicesimo posto se ti va bene, con Prandelli, Prandelli ormai, dopo la nazionale, Prandelli secondo me ha concluso la carriera, in Turchia è stato esonerato, si era visto e non visto più in giro, l'hanno ripreso, era imbalsamato in chissà in quale situazione, l'hanno ripreso, ci vuole un allenatore forte, ci vuole un allenatore cazzuto, molte volte si spende per i giocatori, ma non si spende per l'allenatore, cioè i presidenti preferiscono dare 6, 7, 5 milioni a un giocatore e se gli dici guarda con 2 milioni tutto su tutto insieme prendiamo questo allenatore, ti dicono no, costa tanto, cioè questo è un errore, l'allenatore è la parte fondamentale di una squadra, alla Fiorentina è venuta a mancare proprio la figura dell'allenatore, la Fiorentina, ragazzi mi dispiace, mi dispiace, perché davvero, cioè io ci sarò rimasti male anche in Coppa Italia, quando sono usciti dalla Coppa Italia, però tutto sommato avevano fatto una buona partita, avevano giocato e tutto sommato un po' di cuore ce l'hanno messo anche a Napoli, però a un certo punto non c'era proprio squadra, non c'era davvero, c'era il nulla, il Napoli ha passeggiato sul nulla e questi tutti insieme prendono una vagonata di soldi, prendono tutti una vagonata di soldi, qua c'è da prendere qualcuno nuovo, perché Commiso secondo me non ha quella capacità ancora da presidente, ancora fra qualche anno sì, di prendere uno per uno tutti i giocatori, allora prenda qualcuno, si prenda tutti i giocatori, li mette là, gli fa una lavata di testa, Prandelli sta facendo l'opposto, li sta lisciando, ha ricevuto qualche risultato, l'ha ottenuto anche, però perderti 6 a 0 a Napoli è un segno bruttissimo, sono segni davvero brutti, Napoli, e chiudo col Napoli, perché anche il Napoli adesso è dallo 0 a 6, passiamo al 6 a 0, sto Napoli, io l'ho detto, l'ho sempre detto, può fare molto molto bene in Europa, può fare molto bene in Europa, è come la Lazio, sono squadre che ti possono fare bene a partita secca, però durante l'anno si distraggono, hanno la distrazione facile, quando tu hai la distrazione facile, alla fine, dopo ti stacchi da quelli che quella distrazione non ce l'hanno, vedi Milan, in parte vedi Inter, in parte vedi Juventus, però tu la distrazione ce l'hai, cioè se ti metti in saccoccia due sconfitte consecutive, il sogno scudetto va via, magari dopo ti vinci sei a 0, però ti perdi un a 0, un a 0, le prossime due partite, quindi il Napoli ha ancora tutto da vedere, tutto da segnare, partita strana, partita stranissima, oggi, ovviamente oggi c'è Inter-Juventus, ci sono altre partite, oggi si fanno tanti video, quindi rimanete, iscrivetevi se non siete iscritti, like se vi piace questo canale, ma iscrivetevi perché oggi si fa tanto, oggi si fa tanto, ciao ragazzi, è più tardi, ciao ciao! Ciao!